Danilo Leva, al centro del programma elettorale di Liberi Uguali c'è il lavoro, quali sono le grandi riforme di cui questo Paese ha bisogno? Ma intanto restituire centralità al valore del lavoro, noi abbiamo vissuto questi anni disgraziati attraverso una precarizzazione del lavoro che è diventata poi una precarietà di vita soprattutto per le nuove generazioni. Il Jobs Actal ha prodotto più sfruttamento, ha prodotto più precarietà su 497 mila nuovi contratti di lavoro nel 2017, ben 450 mila, vale a dire 8 su 10 sono a tempo determinato. A questo aggiungiamo che quest'anno solo il 30% dei contratti depositati al CNEL sono contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, ciò significa che il 70% di quei contratti sono contratti pirata, contratti che rendono meno sicuro il lavoro, lo rendono sottopagato e lo rendono soprattutto senza tutela. Allora basta, bisogna chiudere questa stagione, la stagione della precarietà, basta stage, basta questi contrattini che molto spesso non prevedono neppure la giusta remunerazione e bisogna invece restituire centralità sopra la normativa al contratto di lavoro a tempo indeterminato, bisogna garantire la parità salariale tra uomini e donne, bisogna garantire parità salariale a chi svolge le stesse mansioni incidendo sulla normativa sugli appalti e bisogna dare riconoscimento soltanto ai contratti collettivi di lavoro siglati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative. Il lavoro deve essere più tutelato. Importanti multinazionali ottengono generosi incentivi qui in Italia, poi di punto in bianco delocalizzano altrove dove la mandopera costa di meno, dove la pressione fiscale è inferiore e sembra che il governo, lo Stato ha le armi spuntate. Anche questa è una stagione da chiudere, bisogna disincentivare delocalizzazioni costringendo sul piano normativo a restituire tutte le sonvenzioni pubbliche che queste aziende hanno incassato negli anni. Non si può andare avanti con questa concorrenza sleale, non si può scaricare soprattutto sulla pelle dei lavoratori temi che non c'entrano nulla neppure con la competitività. Su questo bisogna che le istituzioni siano serie e va introdotta una normativa in tal senso. Danilo Leva, Liberi Uguali, al centro del vostro programma anche le aree interne italiane, aree interne che si spopolano, aree interne che hanno oramai una marginalità economica e sociale. Cosa fare concretamente per invertire questa storica tendenza? Beh, intanto le aree interne devono diventare una questione nazionale, devono diventare una priorità nell'agenda politica di questo Paese. Il che significa che vanno riqualificate, significa che bisogna introdurre delle misure straordinarie che sappiano incidere appunto su quelle zone che più hanno sofferto lo spopolamento in questi ultimi anni. Cosa significa? Intanto destinare delle quote di spesa pubblica attraverso i meccanismi automatici alle aree interne per prevedere delle esenzioni fiscali totale per tutti coloro che vogliono investire nelle aree interne. Decidono di impiantare nelle zone che più hanno sofferto lo spopolamento le loro attività non solo industriali ma anche commerciali e questo significa quindi garantire maggiori investimenti. E poi soprattutto una norma di buonsenso, cioè burocratizzazione zero. È a dire che coloro che fanno innovazione non devono incontrare ostacoli burocratici. C'è un fattore, quello della tempistica, che sulle aree interne incide ancora in maniera più significativa. Molto spesso per alcuni meccanismi incredibili coloro che devono investire sono sottoposti a dei processi anche di valutazione che sono lunghi. Magari decidono di fare innovazione tra quando manifestano la disponibilità e quando poi quell'investimento può essere concretamente realizzato passano addirittura anni. Ecco, questo non può più accadere. Bisogna ripensare anche le politiche delle aree protette, la vocazione di esse? Sì, bisogna partire dalla centralità dell'essere umano, nel senso che deve essere l'uomo a garantire l'ambiente, non l'ambiente a garantire l'uomo. Noi molto spesso abbiamo vissuto politiche, quelle per dei parchi, che hanno manifestato paradossi incredibili. Ecco, bisogna porre un freno ed un limite a questo e rovesciare i modelli di riferimento.